Nel 1995 in India il dottor Katari e sua moglie inventarono lo yoga della risata, una disciplina che è approdata anche nel nostro territorio. Che cos'è questo yoga della risata? Allora, lo yoga della risata è un'attività divertente, nasce dallo yoga classico come intesa di unione per fare insieme le persone e unire anche le nostre parti interne, la mente, il cuore e le emozioni. Ed è un'attività che ha inventato un medico indiano nel 1995 in India ed è un'attività che ci vuole far ridere ancora di più di quanto già non facciamo. Tecnicamente come funziona rispetto allo yoga classico? A chi è rivolta? Dove si può praticare? Allora, è un esercizio fisico perché la risata ridere è un esercizio aerobico, si può praticare in qualsiasi ambiente, all'aperto, al chiuso. Ed è anche, la cosa bella è che è adatto a tutte le età, ai bambini, agli adulti e anche e soprattutto agli anziani. Gli esercizi sono quelli classici, diciamo, come sono modificati. Allora, gli esercizi sono esercizi che ci aiutano a ridere pur non avendo un motivo e oltre a ridere si utilizzano anche gli altri tre elementi della gioia che sono il cantare, il ballare e soprattutto anche il giocare, mettersi in gioco. Senti, non possiamo esimerci dal parlare del momento pandemico e lo yoga della risata lo avete potuto praticare ugualmente e soprattutto se magari ha dato un aiuto. Allora, sicuramente è stato adattato a tutte le attività online come la maggior parte delle attività e adesso stiamo ritornando piano piano a riportarlo anche all'aperto e sicuramente è importante, questo lo dico, avvicinatevi allo yoga della risata perché ci darà modo di poter superare le paure che ancora sono rimaste dentro di noi. E informazioni sull'attività in genere ma anche sui punti in cui si può praticare nel nostro territorio sul sito www.yogadellarisata.it Da Ostia per Canale 10, Alberto D'Abbini